ah si parte test your strength missione 3 vediamo quanto resisto ok perfetto si parte ora c'è la parte diciamo semplice di questa fight contro i semplicissima semplicissima la cazzata vedi è morto non badate alla barra della vita dai su per favore questo c'è un bel po' di vita dai come si illumina si illumina proprio ma si illumina al culetto dai come si illumina al culo dai ci abbandona che peccato davanti 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 sinistra a destra no sinistra eh non tolto qua è più semplice ma un po' del buio per me si per me è più semplice muore sta lì finché acceso finché bajur finché lampadina morì finché ad aggiungo oh no questo è fatto quest'altro pure ecco ma non era là ciao e invece no invece sono ancora vivo è morto e invece sono morto oh sto non cazzato se deve essere oh è sposato da quella no è addosso a questo no ok ti apro ho avuto ho avuto tanta paura 1 e 2 oh 1 oh dai mori dai mori un po' per favore oh bene bravo ti apro 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 ho capito non so giocare con quella non so giocare con questa io ma vai faccio mi passa i peli come lo petto ma dove è sardo a prendere i giri il gambone scala puntana eva dove sta quell'altro la gambetta unta ecco il culo di cannare pezzo di merda ma chi dei due ha avuto l'idea del fai tanta vita questo qua se stavo te fa dillo non mi ricordo se stavo te sta stanza è la tua sta stanza chi è ma erano finiti erano finiti perché la porta si è aperta la porta si era aperta la porta si era aperta porca troia la porta si era aperta la porta si era aperta cazzo l'ha spumata perca troia cazzo cazzo ora mi incazzo io te stavo per dire vabbè c'hai cento dei video iniziamo il video da là eh capito tu mori tu pure tu mica che mi ha sposto che mi ha davanti mi ha sposto il che fa te sposta no non mi farei idee non mi farei idee non mi farei idee cazzo e sta vero cazzo ma qua è un aggressive no ma perchè non lo piglia inferno notte lo sono baggato buc cambio idea vado così ho sbagliato e invece ho fatto bene fatte pure la porta a testa eh ma non posso no per caso dovessi molire per caso dovessi molire io ecco qua sono blind non mi ricordo un ca sei blind quello che sa che andava acceso con pompa chi è vai spara 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 è meglio ho più danno ancora vivo vai 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 spara il nostro colpo si ci riferai i colpi vai spara da destra l'ho visto ma quello è un amico nostro no sergio è quello che sta sotto vai spara 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 questi c'hanno più no questi c'hanno più resistenza cazzo non mi ricordo un cazzo che stai fai le facce? che faccia stai fa? questa la fa qua la faccia lì mi piace qua oh che ne pensi hai della sua faccia? parla un po' dai in low ti vedranno sicuramente adesso tocca a me marco 2 visto? è facile ce li provo adesso prova Fabio che è il tester delle mappe te ce la dico che forza te l'hai finita te sei l'unico che l'ha finita te del 9-3 e vai vai vedi che sei bravo? si stavo qua stai là stavo già stavo fuori 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 muori apposso tanto va la porta che te fa male no non credo non mi infatti allora uscire la vortex o headshot uno dei due avrò una wall vortex stavolta avrò una wall vortex ok vai col vortex fate incastrarlo effettivamente ci potevo pensare a sta cosa cazzo era così forte il vortex eh il vortex non mi ricordo un cazzo ma vedi che non mi sta a tempo che te sei un cacchetto ma la data è rischiata non ha fatto rischiata ma te come come fai con le teste quelle che vengono da destra sparo e grab gli sparo gli sparo nel senso gli sparo grazie al cazzo che gli spari ma pure noi stiamo a casa vero grazie al cazzo infatti pure qua farito se no vi dico a sparare come cazzo te muovi c'è un movimento preciso che fai o è random no c'è un movimento un po' preciso un po' random mischio le sequenze uno che io sparo non muovo vedi è il suo ah ok quindi non lo sai manco te come si chiama non mi scordate ma cazzo si cambiava r1 r1 ma per primo di triangolo eh no triangolo eternan ma cazzo mi pare si no triangolo era fatto e clicca no era cod perchè ecco ecco effettivamente cosa bene pure te che cazzo vuoi guardate 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 la corona sonora dai restau sento non lo metto in loop sento come fa si aspetta cosa vuoi cercare ma come ma sono dovuto vedere c'è una cosa che sto pensando ma che non la voglio dire c'ho fatta sfiga ma se non lo metto in giusto ahia la gamba io te spacchi le gambe prete poi c'è una cosa che spara tutti quanti c'è del mega casino e tutto è che parte taglio taglio Lo senti l'R2, lo senti l'R2 Lo senti l'R2, questo tasto che sto premendo R2 è il grilletto Fammi parlare a me, è il grilletto Che sta A destra sotto Che è quello là dove su solitamente Nei videogiochi dove si spara Spari Non me ne frega un cazzo di quello che ci sta in mezzo Io ci sparo Però a volte il comando non prende Perché è sfasciato Non spiegare le funzioni Mi sembra un mincellato per il mio Cazzo se cambiano R1 Ma vaffanculo C'è stava la pistola C'era la pistola Eh C'era la pistola e nessuno di noi Ha usato la pistola Ma se rendi conto Che c'era la pistola Abbiamo giocato la mission No ragazzi No noi siamo stati dei cazzo di pro Tutti e tre Abbiamo giocato la missione Finora nella maniera più difficile Senza usare la pistola Il video può finire qui È stato meraviglioso Siamo stati un po' stupidotti Ma anche molto bravi Eeeh Un saluto Senza la pistola Senza la pistola Abbiamo giocato senza la pistola La pistola c'era Nessuno ha premuto R1 Io manco me lo ricordavo Dopo 50 partite Nessuno ha premuto uno Che coglioni Ciao ragazzi Bella 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 Ciao ragazzi Ciao ragazzi